Da quattro giorni ormai non si registrano nuovi casi di covid-19 in provincia di Agrigento e anche il dato regionale conferma la stabilità nella percentuale dei contagi intorno al 13% rispetto ad esempio al 22% del periodo dal 3 al 10 aprile e al 44% dell'ultima settimana di marzo. Non siamo ancora all'azzeramento e probabilmente non ci arriveremo neanche nei prossimi mesi, ma certamente la Sicilia, così come altre regioni del sud Italia, guarda il futuro con maggior ottimismo. La provincia di Agrigento, come dicevamo, ormai da giorni è ferma a 129 casi, ma sono quelli complessivi dall'inizio dell'epidemia, da quali togliere i decessi, ma anche i tanti guariti. L'azienda sanitaria provinciale nel comunicato di ieri sera ne riporta 32. Nell'isola la provincia che rimane più critica è sempre quella di Catania, con 633 casi, mentre Ragusa quella con il minor numero di contagi, ossia 58. 113 sono quelli di Caltanissetta, 318 quelli di Enna, 396 quelli di Messina, 346 di Palermo e 97 per Siracusa. A livello regionale, secondo i dati diramati ieri pomeriggio dalla regione siciliana, sono 49.772 i tamponi complessivamente effettuati. Si conferma un incremento di oltre 2.000 tamponi al giorno, 2.057 per l'esattezza quelli effettuati nelle ultime 24 ore di riferimento. Di questi sono risultati positivi 2.717 persone, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.002 persone, 315 sono guarite e 200 decedute. In lieve calo il numero dei ricoverati, meno 5 rispetto al giorno precedente, per cui negli ospedali ci sono ancora 563 pazienti, di cui 41 in terapia intensiva, mentre 1.639 sono le persone in isolamento domiciliare. Numeri, quelli della Sicilia, che stanno confortando il governo regionale, ormai proiettato verso la fase 2, a partire dal 4 maggio prossimo. Ecco come ho evitato che il contagio ospedaliero di un mese fa si espandesse, ecco come ho evitato che si creasse una zona rossa. Alberto Firenze traccia il bilancio di un mese di lavoro come commissario ad acta per l'emergenza coronavirus all'ospedale di Sciacca, spiegando di aver messo in piena sicurezza gli ospedali, Sciacca e Ribera, all'insegna di una prima riorganizzazione dei nosocomi, guardando con ottimismo alla fase 2. E ha così evitato che si creasse una zona rossa. Parla Firenze di un lavoro complesso anche perché, osserva, ha portato avanti in un clima all'esterno a volte ostile e desasperato da polemiche politiche locali, che nulla hanno a che fare con la fase di emergenza coronavirus. Questione è quella delle polemiche per le quali l'assessore regionale Ruggero Rassa sabato scorso si è detto sconcertato. Lo ha fatto in una dichiarazione in cui ha precisato che il Giovanni Paolo II è oggetto di investimenti e attenzioni come non mai da quando è in carica il governo Musumeci. Ha considerato molto grave, Rassa, che siano state riferite notizie scientificamente infondate che rischiano di mettere in allarme la popolazione e non è più tollerabile, dice, l'istigazione continua dell'opinione pubblica, soprattutto da parte di chi riveste ruoli istituzionali. Fin troppo chiaro il dito puntato contro i sindaci del territorio da parte di Rassa, il quale ha difeso Alberto Firenze, precisando di averlo scelto come commissario d'acta per le sue capacità di risk manager apprezzato e competente, che ha studiato e definito personalmente tutti i percorsi. Il risk manager del Policlinico di Palermo fa sapere di continuare a portare avanti il suo lavoro con il solo obiettivo, dice, di mettere in sicurezza pazienti e operatori sanitari. È stata la regione ad individuare negli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera un'area Covid per il distretto ospedaliero Agrigento 2, con la creazione di 20 posti letto nei locali dell'ex unità operativa di medicina e di 10 posti di terapia intensiva a pressione negativa con percorsi, zone prefiltro e filtro e montalettighe dedicate. Nella messa in sicurezza per i pazienti non Covid attraverso il pronto soccorso generale è stato creato, fa notare Firenze, l'accesso alle aree di ginecologia ed ostetricia, pediatria, cardiologia, conemodinamica, psichiatria, oncologia, urologia e chirurgia generale, comprese l'unità di ortopedia e otorinolaringoietria. Le terapie intensive non Covid sono state strutturate in un blocco a parte, con percorso definito pulito e senza commistione di areazione con le aree Covid. L'organizzazione che ci siamo data mette al sicuro i pazienti perché non c'è possibilità di contatti, aggiunge Firenze, fin dall'inizio in stretto contatto con l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Confermato poi come il blocco operatorio di Ribera in base al piano di integrazione, dovrà fare da supporto ad eventuali urgenze di altre branche chirurgiche presenti nel plesso di Sciacca in caso di pazienti affetti da Covid, fatta eccezione per le urgenze ginecologiche ed ostetriche ed emodinamica Covid individuate per decreto assessoriale presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alberto Firenze aggiunge come si sia posto fine a quella che il commissario definisce una grave criticità presente nel plesso Saccenze che prevedeva un accesso ad operatori e pazienti senza alcuna regola per l'innumerevole presenza di varchi non autorizzati. E così oggi l'accesso alla struttura ospedaliera di tutti gli operatori è possibile superando un apposito filtro con misurazione della temperatura ed effettuazione del link epidemiologico utilizzando solo tre varchi dedicati alla contemporanea chiusura di tutti gli altri. Si è anche determinata, dice ancora Firenze, la possibilità di un'accoglienza del personale sanitario sociosanitario maggiormente esposto ai fini di tutelare medesimi e rispettivi nuclei familiari nei locali della foresteria del plesso di Sciacca per evitare che operatori sanitari divenuti positivi piuttosto che contagiare i propri familiari possano rimanere in quarantena all'interno della stessa struttura ospedaliera. Infine, allo scopo di meglio operare all'interno degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera, Alberto Firenze fa sapere di avere deciso di avvalersi, ponendolo totalmente a proprio carico, di un proprio staff e di un board scientifico di risonanza nazionale a supporto della propria attività. Del board fanno parte docenti universitari ed esperti nelle varie branche specialistiche mediche Luciana Bevilacqua, Claudia Colomba, Roberto Bordonaro, Roberto Lombardi, Dario Piazza, Gaetano VII, Antonio Carrò. Il governo regionale scende dal piedistallo e spieghi meglio le ragioni delle scelte assunte sugli ospedali civili di Sciacca e Ribera, sia per il presente che per il futuro. E questo è il tono di un documento diramato oggi dai consiglieri comunali della coalizione che sostiene il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, i quali si dicono stupiti delle dichiarazioni di sabato scorso di Ruggero Razza, il quale ha attaccato i sindaci dal suo punto di vista colpevoli di non accettare la decisione di trasformare l'ospedale di Sciacca in un centro Covid. Fanno notare gruppi di consigliari di maggioranza come molto spesso si dimentichi che mentre Palermo si discute i comuni siciliani vivono la condizione di un'autentica polveriera sia sul piano sociale che sul piano economico ed occupazionale e che l'onere di gestire una fase così difficile è affidata prevalentemente ai sindaci, i quali, quando lo ritengono opportuno, hanno il dovere di alzare la voce in difesa delle comunità senza che ciò venga scambiato per l'allarmismo, cosa che vale soprattutto per il diritto alla salute. Al sindaco di Sciacca Francesca Valenti e a quelli del territorio va riconosciuto il diritto di manifestare apertamente il proprio dissenso rispetto alle attuali scelte assunte dal governo regionale. Scelte, osservano i consiglieri, che riteniamo debbano essere chiarite e argomentate attraverso un'azione di costruttivo confronto e concertazione che fino ad oggi o non c'è stato o non è stato adeguato. L'accusa al governo musumece di adottare per gli ospedali agrigentini diversi trattamenti. Per il centrosinistra, chi ha responsabilità di governo è il dovere di assicurare territorio un'azione improntata all'insegna della collaborazione del reciproco rispetto istituzionale. L'accusa è anche nei confronti di Margherita Larocca Ruvolo, accusata evidentemente di lasciar fare, nascondendosi dietro la presunta carenza di competenze rispetto a materie che, dicono i consiglieri di centrosinistra, ricadono nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali che pertanto imporrebbero posizioni più nette e chiare. Sul dibattito scaturito dalla lotta al coronavirus, oggi il segretario della Camera del Lavoro Miraglia, Franco Zamuto, sostiene che la nomina di Alberto Firenze a commissario d'acta per l'emergenza alla fine abbia solo aggravato la confusione, le tensioni tra gli operatori sanitari e la richiesta di quella chiarezza che rasserenasse gli animi. La CGL si dice convinta, infatti, che le incomprensioni non siano finite, tra alcune iniziative disapprovate da più parti e tensione alle stelle, con incontri che sconfinano in minacce di procedure di provvedimenti disciplinari o disposte alla Procura della Repubblica. Per Zamuto, quello che potrebbe essere necessario e utile realizzare sarebbe l'ipotesi di istituire al Giovanni Paolo II un reparto di malattie infettive, a condizione che si provveda a dotare la struttura di personale dedicato e non attingendo al già striminzito organico degli altri reparti. Zamuto ritiene doveroso di sapere dove comincino e dove finiscano le prerogative di intervento del commissario d'acta Firenze, ricordando come vado osservato il rispetto delle regole e dei contratti di lavoro nel comparto sanità, anche in regime di commissariamento. Gli stessi progettisti dell'ospedale di Sciacca di Contrada Seniazza avevano immaginato un blocco separato da tutto il resto dell'edificio dove ubicare specificamente proprio un reparto di malattie infettive. Così oggi il senatore pentastellato Rino Marinello, che in un'intervista al nostro telegiornale, evidenzia come la possibilità, da lui avanzata e che sta suscitando diversi commenti favorevoli, di dotare il Giovanni Paolo II di questa unità operativa non sia così complicata. Sono riuscito a ottenere, ad avere quelle che sono le planimetrie originali e si parla appunto di posti letto, stante disigenze, ma la cosa particolare è che è una struttura completamente indipendente anche sempre nell'ambito circondata dal recinto dell'ospedale. Per evitare la commissione dei miei pazienti si può benissimo non riedattare, utilizzare per come nasce questa struttura. Tra l'altro nel piano superiore ci sono stanze attive che in questo momento sono adibite ad ambulatori specialistici e che hanno poi anche il bagno a fianco. Questo blocco è tuttora occupato dai servizi della medicina territoriale, il poliambulatorio, tanto per intenderci, che dunque potrebbero essere trasferiti in altri locali del nosocomius a Cenze, dove dopo 18 anni dal trasferimento continuano a non mancare certo a stanze vuote. Diciamo che nella parte alta, vicino alla coresteria, che era la sede dell'azienda cinalera, ci sono molte stanze, quindi sarebbe un'unità completamente autonoma senza commissione di pazienti. Per trasformare questo blocco al reparto di malattie infettive sarebbero sufficienti pochissimi interventi mirati. Stutturalmente è perfetto, l'aria condizionata è autonoma, sono regolamente funzionanti la luce, l'acqua, il telefono, ci sono anche gli ascensori, quindi non ci sono molti impegni di spesa. L'unica cosa che si potrebbe, si dovrebbe fare è mettere a parete l'attacco per l'ossigeno dei gas medicali e del vuoto, ma non credo che costi molto la realizzazione di questo, la problematica di questi pazienti affetti da coronavirus o comunque i pazienti con problemi di malattie infettive. Una delle indagini preliminari che bisogna fare e ripetere nel corso del tempo è l'indagine strumentale del requisitorace standard, questo si può fare innanzitutto con un apparecchiatura postatile, in ospedale si utilizza già con regolazione. Quindi nemmeno questo sarebbe un problema? Ma nemmeno questo, nemmeno questo, quindi lì arriva semplicemente il personale e il paziente, però tengo a precisare che questo potrebbe essere l'occasione perché Sciacca possa avere veramente un rilancio e diventare un centro di eccellenza, perché in quella zona, o meglio in tutta la Sicilia occidentale, noi questo non lo abbiamo, l'unica condizione è Sciacca. Lei ha lavorato in area di emergenza, quindi in trincea è possibile dirlo, interventi fatti che sicuramente sono interventi di messa in sicurezza degli accessi in ospedale, perché la gente non va più in ospedale questo è un problema, perché quasi rischia veramente che la gente muoia in casa. No, no, se la gente non va più in ospedale naturalmente il numero degli accessi si ridurrà e quindi si verrà determinato in un prossimo futuro un problema, l'ospedale di Sciacca non può essere più scuocca, quindi c'è tutta una serie di situazioni che bisogna attenzionare. Da oggi le attività commerciali, artigianali, gli studi professionali e quanti sono autorizzati a rimanere aperti la mattina potranno farlo anche nel pomeriggio a Sciacca. Il sindaco Francesca Valenti ha infatti revocato l'ordinanza firmata nelle scorse settimane che imponeva la chiusura alle ore 13 delle attività pur regolarmente autorizzate. Possono dunque rimanere aperti il pomeriggio non solo supermercati, negozi di generi alimentari, farmacie ed edicole, ma anche tutti gli altri esercizi commerciali e artigianali, oltre agli studi professionali, uffici privati e patronati. Così il sindaco commenta la decisione assunta. Intanto fare complimenti a tutti quanti noi perché abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando grande senso di responsabilità, abbiamo provato cosa significhi distanzialmente, quale sia l'importanza e quindi credo che siamo così bravi e responsabili da poter continuare ad applicare tutte le regole che ci vengono imposte e che sono a tutela della salute. Per quanto riguarda il Comune di Sciacca, il Comune di Sciacca da oggi si adegua alle disposizioni che vengono dal Presidente del Consiglio dei Ministri e a quelle che in ultimo ha emanato il Presidente Musumeci. Quindi nessuna restrizione ulteriore rispetto a quelle contenute. Volevo ricordare con riguardo all'attività motoria che già da ieri ha interessato il nostro Comune che non significa il fatto di poter riuscire a fare l'attività motoria, significa che individualmente o componenti dello stesso nucleo familiare, quindi conviventi, possono nei pressi dell'abitazione fare un giro, fare una passeggiata, prendere un po' d'aria, ma non significa che si possono riattivare i gruppi, io penso ai nostri bravissimi gruppi di camminatori per esempio, tutto questo continua ad essere vietato. Cioè il Presidente, adeguandosi alle indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, dà l'opportunità di uscire da casa per fare una passeggiata, una breve attività motoria nei pressi dell'abitazione. Facciamo attenzione, non rischiamo di perdere tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Non ci sono nuovi contagi a Ribera, così come in tutta la provincia di Agrigento dove il dato è rimasto invariato negli ultimi quattro giorni. Due delle persone che erano tra quelle risultate positive al coronavirus sono guarite e sono 300 i tamponi negativi tra quelli effettuati su soggetti rientrati da fuori. Una situazione che restituisce una certa serenità anche alla comunità riberese, tant'è che il Sindaco Carmelo Pace pensa di allentare qualche restrizione attualmente in vigore contemplata da ordinanze comunali. È il caso della spesa nei supermercati in ordine alfabetico, per la quale non ci sarà alcuna proroga dopo il 24 aprile. Ma l'attenzione delle autorità a Ribera, così come in tutti gli altri comuni, è tutta rivolta le festività del 25 aprile e del primo maggio. Due giornate in cui i territori torneranno ad essere presidiati dalle forze dell'ordine, soprattutto zone di mare e di campagna, esattamente come è avvenuto in occasione della Pasquetta. La fase emergenziale è ancora tutta a divenire. Mi si chiede anche telefonicamente, ma la nostra ordinanza, le lettere, l'alfabeto, l'ordinanza che io avevo fatto ha una scadenza che è fra cinque giorni e il 24 aprile. Considerato che a fronte di questo sacrificio le cose stanno andando anche meglio, non intento prorogarla oltre il 24 aprile, quindi vi si chiede questo altro piccolo sacrificio per questi cinque giorni, fino a venerdì, proprio venerdì. Ho dato a disposizione a tutti gli esercizi commerciali, alimentari, supermercati, maicellerie, panificio e altri, di stare aperti dalla mattina senza la chiusura pomeridiana fino alle ore 20 e 30, così non c'è bisogno di accalcarsi, ognuno liberamente può fare la spesa. Dicevo il 25 aprile e io metterei anche il primo maggio. Non possiamo mandare in aria tutti questi sacrifici che noi abbiamo fatto in questi mesi e che oggi hanno prodotto questo importante risultato. Per cui il 25 aprile e il primo maggio, ma anche nelle domeniche, ritroverete di nuovo uno spiegamento di forze importante, di forze dell'ordine importante, ma non perché il sindaco non vuole che i suoi concittadini si divertano attraverso schiticchio, scampagnate, tutt'altro. Oggi non ce lo possiamo purtroppo permettere, perché immaginate uno schiticchio di 30 persone con una sola persona sintomatica positiva, cosa può innescare nel gruppo dei 30 e soprattutto queste 30 persone cosa possono innescare nella nostra città? E quindi siccome non ce lo possiamo permettere, siccome abbiamo fatto per circa 60 giorni tanti sacrifici, purtroppo il 25 aprile e il primo maggio, noi rimarremo a casa. Per le tantissime persone per bene che stanno rispettando le regole e che ricevono anche talvolta delle critiche, talvolta delle critiche che sfociano anche in educazione, hanno la mia solidarietà. Ma siccome noi abbiamo oggi un traguardo importante che non è salvaguardarci dalle critiche, ma il nostro obiettivo è salvaguardarci dal coronavirus e salvaguardare la nostra salute e la nostra vita, dico andiamo avanti, continuiamo, ce la stiamo facendo e ce la faremo. Gli occhi sono tutti puntati ormai alla cosiddetta fase 2 per l'avvio della quale, come è noto, la regione siciliana si avvale del parere del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Comitato che si è espresso proprio ieri sera danno già le prime indicazioni, anche se determinanti per capire meglio chi aprirà e come aprirà dal 4 maggio in poi saranno sicuramente i prossimi giorni. Alla luce degli incoraggianti dati del contenimento della pandemia nel territorio regionale, ma visti anche i tassi di occupazione dei posti ospedalieri e la capacità ricettiva dell'intera rete ospedaliera siciliana delle terapie intensive, è plausibile prevedere che la graduale riapertura possa ragionevolmente partire dal 4 maggio con le attività a più basso rischio. Così il Comitato, nel parere che ha trasmesso al Presidente della Regione. Il Comitato Tecnico Scientifico ha individuato precise categorie di rischio corrispondenti a fasce di lavoratori, valutandola in quattro livelli, basso, medio, alto e molto alto, riconoscendo pertanto che non tutte le attività espongono lavoratori e utenti allo stesso rischio di contagio, ma che questo dipenda dal tipo di attività svolta, dal relativo ambiente di lavoro e dalla necessità, possibilità di contatto con soggetti potenzialmente Covid positivi. Sono a basso rischio di esposizione quanti sono impiegati in lavori che non richiedono il contatto con persone sospettate o note per essere infette da Covid, né hanno frequenti contatti ravvicinati con il pubblico e con altri colleghi. Per questa categoria la data del 4 maggio segnerà verosimilmente la fine del lockdown. A ripartire saranno le aziende del settore manifatturiero e della filiera dell'agricoltura, così come i grandi cantieri. Ovviamente dovranno essere rispettati i parametri di sicurezza che il Comitato Tecnico Scientifico ha indicato. Un paio di settimane dopo toccherà i negozi e da quel momento dovrebbero finire anche tutti i divieti di mobilità personale. Per quanto riguarda parrucchierie e centri di bellezza c'è un piano A e un piano B, ma non apriranno prima di fine maggio. Gli ultimi a giugno inoltrato saranno i bar e i ristoranti. Per quanto riguarda i lidi non c'è ancora alcuna data. Intanto in vista del 4 maggio già sabato scorso il presidente della regione Musumeci con una nuova ordinanza ha allentato qualche misura. È stabilito che si può fare attività motoria vicino casa, che i disabili possono fare una breve passeggiata accompagnati sempre vicino all'abitazione. Ed ancora ritornano le tanto sollecitate consegne a domicilio dei generi alimentari la domenica e nei festivi. Si potrà curare l'orto e fare la manutenzione delle campagne, soprattutto per attivare misure antincegno. I titolari degli stabilimenti balneari possono cominciare a preparare la stagione estiva sistemando le cabine e pulendo gli arenili. Rimane invariata l'ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. In ordine al servizio di consegne a domicilio anche nei festivi e nelle domeniche per i prodotti di genere alimentari e alla possibilità che gli stabilimenti balneari possano organizzarsi con la manutenzione, c'è la soddisfazione di CNA Balneari Sicilia e CNA Alimentare Sicilia. Quest'ultima chiede un ulteriore sforzo al governo regionale tornando a sollecitare a proposito dei buoni spesa che nei bandi e nelle manifestazioni di interesse la cui gestione nelle mani delle amministrazioni comunali vengano individuati anche gli operatori delle attività di produzione di cibi da asporto. Una linea di inclusione che richiede l'emanazione di una circolare di indirizzo valevole per il territorio regionale al fine di coinvolgere un'ampia categoria di imprenditori. Tele Monte Cronio trasmetterà in diretta dalla Chiesa dei Cappuccini di Sciacca oggi pomeriggio alle ore 18 la Santa Messa in ricordo di Lidia Agliotta, l'infermiera originaria di Sciacca deceduta nei giorni scorsi dopo aver recontratto il coronavirus. La storia di Lidia, 55 anni, caposala nella residenza sanitaria assistita a Villa Serena, ha commosso la comunità saccenza e non solo. La sua vicenda ha avuto vasta eco anche nei telegiornali nazionali. È stata sepolta nel cimitero di Predore, comune dove viveva con il marito e la figlia. Le famiglie Liotta, Guardino, Porrello e Scarpato hanno ringraziato quanti in questi giorni hanno manifestato dolore e vicinanza per la prematura scomparsa di Lidia. La messa in ricordo dell'infermiera sarà celebrata dai frati Cappuccini di Sciacca. Fra Michele Barone con queste parole ricorda il sacrificio di Lidia Agliotta e invita la comunità a seguire la celebrazione di oggi pomeriggio. Io vorrei mettermi sulla linea di Papa Francesco, il quale ha definito eroi, ha definito santi dei nostri giorni, tutte queste persone che si sono posti in atteggiamento di altruismo, di generosità, di disponibilità, uscendo da se stessi, da quel virus dell'egoismo di cui parlava Papa Francesco e del quale dobbiamo avere molta più paura rispetto al Covid-19. Pertanto Lidia Agliotta è una di queste ecco persone che ha saputo mettere davanti all'egoismo, davanti all'interesse della propria vita, gli altri. Questi altri in modo particolare sono quella categoria di persone più fragili, più deboli, più indifesi che sono gli anziani. Lei appunto che lavorava in una casa di riposo e con tanto amore assistiva e accompagnava ecco queste vecchiette, ha saputo con generosità donarsi fino alla fine diremmo, fino al dono di sé, in quanto sapendo già che la malattia ecco l'aveva un po' debilitata, al momento del bisogno non ha saputo resistere ecco all'idea di dover andare e quindi ha così ecco portato a compimento questa sua opera, questa sua missione pagando con il prezzo della vita. Pertanto questo è degno di essere ecco posto all'attenzione di tutti, alla stima di tutti perché sia sprone per tutti noi, in modo particolare per noi saccensi che siamo veramente orgogliosi di queste persone che ci appartengono e che ci fanno sentire totalmente vicino ecco a questa problematica. Quindi noi vogliamo onorare ecco questo gesto di Lidia, la sua anima attraverso la celebrazione che attraverso Telemonte Crona renderà possibile la partecipazione a tutta la cittadinanza e oltre. I consiglieri comunali Calosiro Buono e Giuseppe Miglioti oggi intervengono sulla questione legata all'integrazione oraria dei lavoratori stabilizzati. Ancora oggi e nonostante i vari solleciti fatti da questa parte politica anche prima che scoppiasse l'emergenza scrivono non conosciamo quali siano le motivazioni che ostacolano l'integrazione oraria promessa a suo tempo. Buono e Miglioti affermano di voler tornare a porre l'attenzione sulla questione senza alcuno spirito polemico ma nella consapevolezza del fatto che nonostante l'emergenza ci sono situazioni che devono necessariamente essere affrontate ancor più di fronte a lavoratori che vivono una condizione di disagio economico. I due consiglieri hanno chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di convocare un consiglio in via telematico o comunque una riunione ufficiale con giunta consiglieri e uffici competenti. L'Assemblea del Movimento 5 Stelle di Ribera chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario ed urgente per affrontare la questione della rimodulazione dei tributi comunali alla luce del decreto di sospensione per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio ma soprattutto in attesa di ulteriori provvedimenti da parte del Governo. I 5 Stelle di Ribera propongono una riduzione per tutto l'anno 2020 dell'imposta sulla pubblicità e occupazione di suolo pubblico, una riduzione della Tari per artigiani e commercianti al 50%, l'esenzione delle rette scolastiche dell'addizionale IRPEF e in generale una rimodulazione di tutti i tributi locali. L'Ordine degli Infermieri della provincia di Agrigento avrà a disposizione 3.650 mascherine FFP2 così come disposto dalla Federazione Nazionale, dal Ministero della Salute e dal Commissario per l'Emergenza Sanitaria. Come annunciato in videoconferenza, l'Ordine degli Infermieri di Agrigento avrà da subito una dotazione minima per consentire di lavorare in sicurezza, mentre i restanti dispositivi saranno conservati per fronteggiare le situazioni più ad alto rischio contagio degli infermieri che operano nel territorio. Intanto, grazie alla cifra stanziata dall'Ordine degli Infermieri di Agrigento, ossia 20.000 euro, sono state acquistate 1.700 visiere paraschizi, 600 delle quali sono state già consegnate, mentre domani è in arrivo una nuova fornitura. Dopo l'Ordine di 1.000 visiere 3D già in parte consegnate, il distretto Meccatronica ha ricevuto una nuova commessa da parte della Protezione Civile Regionale. Questa volta si tratta di un lotto di 150.000 mascherine chirurgiche lavabili. Le aziende del distretto sono già al lavoro per la produzione del primo stock di 25.000 pezzi, che sarà consegnato nel giro di una settimana. L'Ordine della Protezione Civile prevede la consegna di tutte le mascherine in massimo sei settimane. Sono stati 647 in totale i controlli effettuati dalle pattuglie della Polizia Provinciale nell'ultima settimana, ma non è stata rilevata alcuna infrazione, un dato che testimonia una buona propensione della cittadinanza a rispettare le norme sulla limitazione degli spostamenti e sul distanziamento sociale. I controlli effettuati con il coordinamento della Prefettura e della Questura, oltre alle strade provinciali, sono stati estesi a 18 comuni della provincia, tra questi Santa Margherita, Menfi, Burgio e Villa Franca. Congratulazioni al paziente bergamasco guarito dal Covid-19 in Sicilia e a tutto il personale medico e sanitario dell'ospedale civico di Palermo che si è preso cura di lui. È significativa la collaborazione tra ospedali del nord e del sud del paese per affrontare l'emergenza insieme con spirito di solidarietà. È quanto ha dichiarato la Presidente della Commissione Sanità dell'Arse, Margherita Larrocca Ruvolo, che ha augurato al pensionato Ettore Consonni, 62enne colpito dal coronavirus e trasferito in coma con volo militare all'ospedale civico di Palermo per mancanza di posti letto in Lombardia, di tornare presto alla sua vita. L'uomo, dopo 23 giorni di terapia intensiva, è stato trasferito nel reparto di malattie infettive e il suo tampone è risultato due volte negativo, quindi è ufficialmente guarito. Altri migranti arrivati a Villa Sicania, Siculiana, tra le proteste della popolazione, solidarietà è stata espressa dal coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, che tira in ballo i parlamentari agrigentini di maggioranza, che una settimana fa si proclamavano disponibili ad intraprendere azioni efficaci per risolvere la questione, accusandoli invece di non avere fatto nulla. Altre 56 tonnellate di materiale sanitario sono arrivate in Sicilia poche ore fa. Nello specifico si tratta di mascherine chirurgiche, guanti in lattice, calzari, schermi protettivi, cuffie, mascherine di tipologia FFP2, camici, copriscarpe e tute di protezione. Si tratta di dispositivi medici protettivi provenienti dalla Cina, acquistati dalla regione siciliana. L'aereo, il secondo proveniente dalla Cina, è atterrato all'aeroporto di Palermo ed è stato accolto, per così dire, dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Le 56 tonnellate di dispositivi sanitari, fondamentali nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state disposte su quattro tir e spostate presso i magazzini della protezione civile regionale. A partire da oggi saranno smistati nei presidi ospedalieri presenti nelle nove province siciliane. Il materiale sarà distribuito anche a medici di base, pediatri, case di riposo e residenze per anziani. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un terzo volo, mentre l'ultima parte del carico, ossia la più corposa, arriverà via nave. Soddisfatti il presidente Nello Musumeci e l'assessore al ramo Ruggero Razza che ascoltiamo in questa intervista. È la seconda degli arridi che sono stati previsti con una commessa importante che la regione ha fatto insieme a UPMC, potendosi avvalere di una rete di collaborazione internazionale e anche gli aerei che hanno effettuato il trasporto sono stati direttamente sostenuti dalla regione. È una fornitura importante di cui questa è soltanto la seconda consegna che vale qualcosa di più di 10 milioni di Euro. Questo significa che i circa 300 tonnellate di cui ha parlato il presidente Musumeci al primo arrivo hanno visto il secondo step questa settimana, probabilmente un ulteriore step con il trasporto aereo la prossima settimana e poi il grosso del carico che avvilerà pienamente. Ciao a tutti, io sono Stefano e oggi insieme ai miei colleghi Gellando, Lisa e Marco vi faremo conoscere Alicos. La panna è la voce di due fermate, solo secondo la panna. Eccoli al lavoro anche online ragazzi della squadra di Marevivo, mentre continuano a presentare nelle scuole il progetto Alicos di prevenzione ambientale e valorizzazione della foce del fiume Platani. Ricorderete la barriera installata alla foce del fiume Grigentino che impedisce alla plastica di raggiungere il mare. La sua collocazione, avvenuta lo scorso febbraio, è stato il punto cruciale dell'attività lanciata da Marevivo, che si completa con una serie di incontri che durante l'anno scolastico l'associazione ambientalista aveva già iniziato a presentare in diverse scuole. Il lockdown, messo in atto a causa dell'emergenza mondiale coronavirus, ha purtroppo bloccato il percorso intrapreso, volto a immergere i giovani nelle innumerevoli bellezze naturali della terra e del mare. Ma l'associazione ambientalista Grigentina non demorde e se la didattica a distanza ha sostituito le lezioni in classe, anche Marevivo ha pensato di fare lo stesso, posto che, come spiegano oggi in un comunicato, l'ambiente non si ferma. Così l'associazione ha lavorato alla produzione di alcuni video educativi e scientifici, come quello che vi stiamo proponendo, realizzato dal responsabile della divisione subacquea Riccardo Cingillo, lavori che sono stati proposti in diverse scuole partner delle iniziative in fase di realizzazione, riuscendo a mantenere il legame con gli studenti di svariate parti d'Italia. Il progetto Alicos, realizzato con il sostegno della Fondazione con il Sud Bando Ambiente 2018, continuerà dunque telematicamente nelle scuole partner, istituti comprensivi Ezio Contino di Cattolica Araclea, Vincenzo Navarro di Ribera e Francesco Crispi di Ribera. Cinque i video didattici che saranno proposti agli studenti a partire da oggi, che tratteranno temi educativi e scientifici e finalizzati anche alla conoscenza dell'habitat del fiume Platani e della riserva naturale della sua foce, con informazioni sulla fauna e sulla vegetazione, sull'importanza delle dune per la salvaguardia dell'ecosistema marino, partendo dalla storia per giungere alla geologia e infine all'inquinamento dei fiumi e alla minaccia della plastica. In questi giorni di stop dell'attività dell'uomo, la natura sta riprendendo a vivere come non mai. È bene che i giovani, anche attraverso queste attività, sappiano come non tornare al punto di partenza una volta fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.